buongiorno a tutti in consegna car tablet dedicato fiat 500x ieri abbiamo visto già lo stesso modello installato sull'auto del nostro cliente questa mattina eseguiamo un'altra lavorazione la state vedendo 9 pollici android 10 4 giga di ram rom 64 giga recupero totale funzioni auto adesso siamo in sezione radio potete gestirle sia i comandi al volante che manuale ma che dici su giancar questa è la home principale poi possiamo gestire sia usb in audio e video in questo caso stiamo in audio gestione titoli playlist molto semplice da usare qui andiamo nel menu seconda home abbiamo insomma tutte le icone classiche android google audio elite alcune app le possiamo gestire localmente come google come google maps youtube ovviamente la prima volta ci chiede le impostazioni come in questo caso una volta impostate non c'è più bisogno di impostarle quindi andiamo su maps quindi DSP dove il cliente si può divertire a impostare le varie funzioni ovviamente i car tablet già di loro migliorano il sound della macchina rispetto agli originali in più il DSP dà una spinta maggiore cosa molto importante abbiamo anche il recupero setup auto fondamentale in questo caso in italiano dove il cliente può andare a impostare tutti i setup della macchina accendere le luci programmare la regolazione illuminazione portiere insomma sono veramente tante impostazioni poi abbiamo anche un secondo setup dove invece andiamo a prendere i dati in automatico della macchina tutti i chilometri i report i report poi in questo caso con il cliente abbiamo deciso di installare anche il DAB perché noi ricordiamo che il DAB per quanto riguarda DAB Apple Car Pro e Android Auto sono degli optional su alcuni prodotti solo su Mercedes sono di serie quindi il cliente li può personalizzare come state vedendo questo è il DAB e quando se li ingozzano non capiscono più niente e vanno queste sono tutte le stazioni a incastrarsi con le corna a incastrarsi con le corna dopo un pochino entra anche la copertina dell'emittente ma tu fici che le corna sono sempre un guaio che abbiamo anche la retrocamera qui questa è la retrocamera originale di serie come vedete abbiamo anche i sensori di parcheggio quindi il prodotto possiamo dire che è compatibile al 100% un saluto a tutti voi un buon weekend grazie mille grazie